La finale 3-1 è stata una finale molto combattura nel secondo tempo. Nel primo tempo la squadra ha fatto un partitone, non ci sono altri aggettivi. Abbiamo avuto il nostro mediano Erkan, il turco, perché è un ragazzo turco che ha fatto un partitone penso il minore della stagione. Ci sarà sempre meritata e dopo la delusione di marzo in cui abbiamo perso le finali dei Cup, siamo riusciti a portarcela a casa e il prossimo anno si va in Serie B. L'esperienza è fantastica, solo il posto parla da solo, tante postazioni, c'è la possibilità di giocare da computer, da playstation, ma anche l'esperienza di vivere ciò che si vede sempre in cameretta, viverla qui in un'emozione indescrivibile. Consiglio a tutti di partecipare a un campionato LNB. Il prossimo anno prenderemo qualche settimana di pausa perché è stato un anno intenso, perché allenamenti ogni giorno, ogni sera sono faticosi. Prenderemo qualche mese di pausa e poi inizieremo a preparare la stagione successiva, i nuovi investi e vedremo un po' come gestire la squadra che abbiamo ora. Prenderemo qualche mese di pausa e vedremo un po' come gestire la squadra.